buonasera tutto bene riccardo tutto bene oggi siamo a milano ragazzi finalmente ho scoperto dove fa l'aperitivo nina mori adesso l'abbiamo scoperto al deus però non sappiamo dove sta qualcuno ce lo sa dire scusi mi sa dire dove si trova il deus anclotto di latro sulla sinistra grazie 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 finalizzate ecco le macchine che ci investono marco marchio le macchine che ci investono si 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 tranquilli vai corri nina motiva su vedai io o ma chi se non entrate il fisico allora ha detto il primo angolo era quando giusto aspetta 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 cazzo andiamo andiamo hd deus grazie grazie vai 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 cazzo vai cazzo vai 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 adesso qua c'è buonasera mina hai qualcosa da dirmi ma è certo ma non è lui è finto buonasera tu dovresti mangiare le patatine e dovresti andare in piedi e fare buonasera a questo punto ma cosa mi dici lina? come ci fai? questa è una cosa da trovare e certo ti chiedo proprio e tu sei? io mi chiamo luigi e cosa sei? mettendo la mano sul culo la mia fratella calmate calmate non gli fai bravo lui è soltanto un... non fare il tipetto un briacuai che si stava vendendo due... piccolissimi i tuoi che aggiustano perché becchi cosa hanno da dirti ora davanti? cosa mi dite raga? ma io ti voglio bene Marchino lo sai anche tu che ne dici? e tu? e tu lo vuoi bene? no è strano ma la vuoi bene? è strano ma no vedi l'impressione in foto si vede che è strano ma da vicino fa vicino ma che strano è simpatica è simpatica no almeno allora ragazzi è simpatica allora ragazzi scusa ti posso dire una cosa come fa a stare così? infatti mi sto chiedendo anch'io Marchino perché non hai vent'anni di più? eeeh vabbè non fa niente senti ma una piantassina ci fai? ancora no ancora no ancora no ancora no amore Gioia ma a scuola ci stai allenando? e certo allora tutte le professoresse di Marco sono brave? diciamo allora quelle cattive ci penso io voi perché Marchino deve studiare anche perché sei dolcissimo e ma sto pari ti vuole salutare? no non mi saluto non ti saluta ma quando vai a letto ti dici ciao Antonio che dice? io faccio saluta Antonio e lui niente? si gira ah si gira non ti considera? non mi consiglio oh Anto ma saluta sto figliolo Anto io comunque sono sempre stato tuo fan sappilo ma ecco invece Anto io mi dico oh ti dici ma saluta sto figliolo eh Anto beh ce la facciamo prima o poi un bacio Calabria di Calabrese si di dove esattamente? Cosenza un grande bacio Cosenza perché qua con me direttamente da Milano da un bar particolare particolare guardate ragazze usate mia ma che bar frequenti? i bar con il fine old American old American style sono i migliori barmani e l'hamburger ti piace il burger? si si ti vuoi un burger? un triplo hamburger ho giacerato ho giacerato ho giacerato ho giacerato sushi ah sushi per la prima volta in vita mia questo tizzo qua mi ha portato sushi ce l'ha riuscito speriamo che non sto male sono riusciti ragazzi io l'ho portato non tu io a te mi piace sushi io adoro sushi Marco andiamo a mangiare ancora sushi non era per te e venivi qua ti fai bagnare un bel hamburger ma non ti mandavo al minimo ragazzi vi saluto un bacio grande e alla prossima e mi raccomando però quando saluti come devi dire? saluta Antonio saluta Antonio ciao ragazzi ciao mattina